Grazie a voi abbiamo altri cinque anni da governare Bologna e attuare finalmente tutto quello che abbiamo seminato. Vi voglio presentare quello che abbiamo fatto in questi primi cento giorni, quindi comincia il viaggio, seguitemi. Altri 9.000 bambini e ragazzi vanno a scuola gratis. Sono così oltre 30.000 gli studenti che non pagano l'abbonamento. Proposte, critiche, commenti. Il martedì dalle 17.30 alle 19.30 il sindaco e gli assessori si alterneranno per ascoltare i cittadini che ne faranno richiesta. L'esenzione dell'addizionale IRPEF viene estesa da 12.000 a 15.000 euro di reddito, coinvolgendo altri 20.000 cittadini. In totale non pagheranno più l'addizionale IRPEF più di 115.000 bolognesi. Le porte della Sala Rossa del Comune sono aperte per celebrare le unioni tra persone dello stesso sesso. Successo internazionale per la mostra di David Bowie, un altro importante tassello dell'offerta culturale bolognese. Un progetto strategico per rendere la tangenziale più scorrevole, diminuire i tempi di percorrenza e non avere file. Un liceo musicale dedicato a Lucio Dalla, grande artista bolognese. Questa è Bologna, questa è la nostra città. Sarà una città sempre più moderna, sempre più europea e aperta al mondo. Sarà una città di persone che hanno il coraggio di cercare la propria felicità. Sarà una città di persone che hanno il coraggio di cercare la propria felicità.